Il dibattito sul tema migratorio torna alla seduta plenaria del Parlamento europeo. L'obiettivo europeista è facilitare a livello legale l'arrivo di nuova forza lavoro. L'intervento dell'inviata a Bruxelles per E-Media M1, Borosko Ester. Vi invito a sostenere il canale economicamente come Maurizio. Come sempre iscrizione, mi piace e condivisione. L'ultima decisione dell'UE in merito è della scorsa primavera, la creazione della cosiddetta Carta Blu. Una sorta di permesso di soggiorno, meno rigido rispetto al passato, per chi vuole lavorare nei 27 Stati membri. Si può rimanere più a lungo, accettare impieghi a stipendio più basso, portare anche le proprie famiglie in Europa. Un'apertura al permesso di soggiorno permanente per i lavoratori altamente qualificati. La proposta approdata in questi giorni al Parlamento europeo riguarda però soprattutto i lavoratori extracomunitari a media e bassa qualifica. La maggioranza degli eurodeputati parla di benefici all'economia europea e alla demografia. Un'UE che invecchia l'età media di ben 44 anni e in crescita preoccupante. Entro il 2050, un terzo degli europei avrà almeno 65 anni e sarà in età pensionabile. Gli europeisti aprirebbero ancora di più le porte del vecchio continente. A livello economico, gli stranieri sulla carta farebbero crescere di 1,5 volte l'attuale PIL dell'Unione. Il commissario UE agli affari interni, Ilva Johansson, ha ringraziato gli extracomunitari, perché a sua detta, senza questi, l'Europa non sarebbe sopravvissuta economicamente al Covid. Ricordiamo che la maggioranza del Parlamento europeo è europeista, liberale e di sinistra. Il suo obiettivo è quello di facilitare la legalizzazione degli stranieri, così da limitare formalmente l'illegalità. Vorrebbe una cosiddetta piattaforma delle capacità, che legherebbe il bilancio UE alla manodopera extraeuropea. La Commissione dovrebbe avviare un sistema ambizioso, di accoglienza con un registro unificato delle caratteristiche di ogni imprenditore o dipendente. Verrebbe concesso un visto di 5 anni con permessi di ingresso multipli. In caso di perdita del lavoro, verrebbe garantita una permanenza in unione di 3 mesi. Chi è già qui si vedrebbe allungato il visto per ulteriori 5 anni. Sempre gli europeisti suggeriscono la concessione di tutti i diritti dei cittadini UE agli extracomunitari, ad esempio quello della libera circolazione tra gli stati membri. Viva il patriottismo, viva l'Italia. Eia Modelo Orsag. Giappone Orsag. Grazie a tutti